La Polizia Postale entra nelle scuole anche della provincia di Salerno con un libro sulla sicurezza online e lo fa domani in occasione della giornata mondiale degli insegnanti che si celebra il 5 ottobre in concomitanza della festa dei nonni con un workshop sul tema della sicurezza online nelle scuole elementari su tutto il territorio nazionale. La Polizia di Stato il 5 ottobre incontra 50.000 studenti delle scuole elementari di 100 capoluoghi di provincia. Domani gli operatori della Polizia Postale incontreranno in classe i bambini ai quali verrà regalato il libro Interland avventure digitali in viaggio col nonno alla scoperta del web. Il volume dedicato ai bambini e alle loro famiglie per aiutarli ad affrontare insieme i temi della sicurezza del web edito da Gribaudo è stato realizzato dalla Polizia Postale in collaborazione con Google e sarà distribuito gratuitamente anche dalla casa editrice Feltrinelli. L'appuntamento per la provincia di Salerno del personale del compartimento della Polizia Postale delle comunicazioni in Campania con i bambini sarà l'istituto comprensivo di Montegorvino Pugliano Santa Tecla e capoluogo di Pugliano. Al centro del dibattito con gli specialisti della Polizia Postale il dialogo intergenerazionale sui temi del digitale e l'aiuto reciproco tra nonni e nativi digitali per sviluppare le competenze fondamentali per vivere online e in rete con consapevolezza. I protagonisti del libro sono nonno a Genore e i suoi due nipotini che si ritrovano ad affrontare alcune sfide, phishing, incidenti legate alla privacy online, le stesse che tutti noi affrontiamo ogni giorno sul web con insegnamenti e consigli. L'obiettivo delle attività è insegnare ai bambini sempre più precoci l'utilizzo dei device poiché nel periodo dell'emergenza Covid sono stati sempre più esposti in solitudine alla rete internet e vittimi di reato e a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright, all'adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri. La formazione sui temi della sicurezza e dell'uso responsabile della rete è un impegno della Polizia di Stato e la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione è assolutamente determinante.